i prodotti che hanno dentro il giornalismo il rapporto tra questo e il giornalismo partendola da una constatazione che l'impresa giornalistica non è che sta subendo la trasformazione ha subito la trasformazione ed è quella che ha internet un'impresa di comunicazione questo fatto può essere individuato anche in alcuni documenti, alcune date e lo possiamo vedere poi mi riprometto di tirare fuori le parti materiali che possono essere ultimi per collocare meglio il giornalismo dentro i processi avvenuti mi sono forzato di raccogliere elementi inutili sul campo problematico ma anche sul campo poi della possibilità e dei risultati che ne vengono solo una volta un po' sconcertanti come se io c'è anche la quante slide di prima a numero degli ultimi l'ingresso dell'epologia è direttamente di un'idea del programma di giornalismo per esempio e però penso che in questo posto avete un certo comunicato allora per fare questo partirei da un richiamo andiamo a alla situazione di una vicina realtà quando un rapporto pubblicato dalla rivista della Polonia definì il momento si chiamava Over Road nel sovracarico ed era una terza ricerca condotta insieme con la P dove veniva fuori in maniera molto netta che c'era diciamo che l'informazione comprese il giornalismo era diventata una sorta di rumore difficile da individuare come un po' quando si ha scoppa la radio si diceva e si sovrappone una testazione non solo ma allora si capì abbastanza chiaramente che il ruolo del giornalismo era passato dal gatekeeping dei flussi alla contestualizzazione e alla capacità di dare un senso a questo massa Over Road del sovracarico di informazione questa cosa ha dato luogo un po' a un senso comune non è che ha dato grandi risultati perché si accompagnava da grandissima crisi con le imprese che era una nuova ricerca la pubblicità che era caduta e tutto il resto diciamo che due anni fa nel 2014 nel 2014 il New York Times ha preparato un lavoro che si chiama Innovation che aveva una caratteristica molto particolare questo lavoro non era destinato ad essere conosciuto era un lavoro fatto da un gruppo riservatissimo e qualificatissimo il lavoro è stato finito nel marzo del 2014 avranno partecipato lo stesso scritto del editore è stato proprio dice capoglionista insieme con i video personaggi per capire un segno di video journalist un assistant editor del mobile un giornalista investigativo tanto per dire che c'è anche un problemino del giornalismo più forte uno del business un reporter di tecnologie un esperto di paginazione un business reporter è un manager strategico più un paio di personaggi di amministrati premi questo documento Innovation destinato ad essere un atto interno per cui importantissimo perché siccome è un documento del New York Times interno di strategia era nato per adeguare la vincoletta al mondo digitale la newsroom rivintante troppo focalizzata sulla prima pagina stampata delle messaglie questo obiettivo già parlo abbastanza da solo e il documento quindi per provare delle cose di grandissima delle chiatezza e per imponere le basi di un cambiamento effettivo che è avvenuto e cosa è successo che Barstead che si nominicano di chiamiamolo così giornalismo disinvolto rispetto al mercato anche ridondante così nelle forme dei gattini anche dei carici l'ha pubblicato poi nasce con una completa ad un cavo alcune pagine più delicate e questo documento è stato a disposizione quando l'ho detto io ho fatto un salto sulla sedia perché arrivato a pagina 62 ho trovato le affermazioni che possono stare al centro dovrà anche del cambiamento del direttore del New York Times girando la famiglia di questo ed è certo questo non è un'opinione ho trovato delle affermazioni che veramente spiegano che cosa è avvenuto le affermazioni sono piuttosto semplici dicono il mutuo che separa dal newsroom famoso dal business ha salito il New York Times per decenni permettendo agli uni di dedicarla ai lettori giornalisti e agli altri che non sardegrazionisti ma costante dimenzione alla vicissità ora ci chiedi di lavorare insieme poi mi metto la vicissità come vedremo per la prima volta sia dal newsroom sia dal business si sono focalizzati primariamente sui lettori poi c'è scritta la cosa che mi ha fatto fare esatto sulla serie ma il vero primo passo deve essere una decisa spinta da abbandonare la nostra tradizionale metafora the wall che se la reazione è stata chiesa prima che vuole una necessità permanente di divisione un incremento della collaborazione ben condotta non presenta alcuna minaccia ai nostri valori di giornalismo indipendente una cosa in quei giorni Girard sono dovuto lasciare lei non aveva un senso opposto ad esempio alla pubblicità questa nuova nativa sul sito non l'aveva semplicemente accompagnata con un po' di rigore perché diceva che bisogna sapere se c'è un committente meriterlo e però questo contrasto cessato e ha portato alla sua uscita non solo ha portato alla sua uscita ma pochi mesi dopo cessata anche una trasformazione nel giornale organizzativa che passava un posto sottosivesi un giornalista di New York Times ha fatto un tweet su questo io sono che mi riuscite hanno tolto di mezzo il managing editor che era un po' anche nei film se vi ricordate tutti i giorni il presidente del managing editor che era il vero protagonista del centro di un e due e l'hanno sosseguiti con vice direttori in linea con settori del business del giornale che poi vediamo la risonda che sono veramente di più al mio retweet il giornalista di New York Times mi ha preso il mio tweet tra i preferiti che vuol dire che ci avevo preso perché io che ho scritto the wall is falling il muro sta accadendo attenzione questo rapporto con l'innovation mette in evidenza non solo la pubblicità con la pubblicità nativa con tutte le conseguenze reali e il marketing ma anche il social network che cosa sta succedendo anzi che cosa è successo che il social network attraverso quello che loro chiamano reader experience nel rapporto entra nel giornale da protagonista e ne ha una sorta di outlet che fa l'agenda cioè il senso comune che viene fuori dai social viene recepito e diventa primario per cui certi effetti che sono un po' fisiologici nel campo di forze dell'informazione insomma a sebrevica quando hanno ammazzato 8 milita persone i giornali da televisione tutti quanti siccome l'auditel diceva ogni volta che parlava dell'esercizio di Mosvaria quindi cadeva all'audience noi non abbiamo visto gli 8000 morti di sebrevica vi ricordate per questo diciamo è stato accolto pienamente nel nuovo equilibrio che il New York Times ha incominciato a mettere in tutto questo però non è che il giornalismo ha impacchettato le proprie cose e è andato via no diciamo ha subito come un contraccolto però siccome il giornalismo è parte integrante non soltanto del business dei giornali ma anche di un assetto diciamo democratico di un paese diciamo un momento senza avere dei falsi pudori il problema si è posto in la parola eccetera guardate che questa trasformazione che io seguivo molto da vicino che i studenti che erano nelle tesi abbastanza interessante in Italia ha avuto esattamente un anno dopo nella primavera 2015 un rebound preciso e anche formale allora quando erano avviati il nuovo direttore Ferruccio De Portoli mi ha fatto leggere un documento ma è stato un fatto d'occasione perché tu eri tu a fare una lezione con il mio corso io avevo chiesto di autorizzazione pubblicata e filmata stavano nel suo ufficio stavano c'era parlando e ho visto sul tavolo tre cartelle che prima mi trovavano ed era un documento che riprendeva pari pari lo spirito della sostanza della trasformazione dell'impresa il mio corso non si può fare una corriera se è in atto guardate se uno guarda bene cosa è successo già nelle pubblicazioni vede che c'è pienamente mi ha fatto anche leggere la sua rettica sapete Ferruccio De Portoli è una persona piuttosto cauta nelle relazioni anche dei contrasti non è una però la sua risposta che uno ha fatto leggere si tutto va bene però noi in questo dobbiamo salvaguardare funziona l'autonomia del giornalismo sia pure dentro tutto questo perché è fondamentale anche della conservazione del giornale stesso questi due documenti non sono diventati pubblici in Italia un paio di mesi fa io l'ho detto in pubblico a Ferruccio stesso alla borsa della mia premiata senza essere scortese siccome c'è dei discorsi di allarme sulla situazione sarebbe interessante avere questo documento perché questo documento cambia l'articolo 6 perché in Italia l'autonomia del direttore che chiama a lui nomine che sono noi da assumere organizzare giornali insomma nasce storicamente per garantire rispetto a una proprietà dei giornali e dei medi che in Italia non è così legata al giornalismo è più legata ad altri interessi insomma noi abbiamo costruito su questo quel minimo di autonomia che permetta al giornalismo di vivere dentro a questa realtà traballante guardate che noi traballanti sotto tutti gli aspetti non è un caso che siamo settantasettesimi no nel reporter San Frontiere eccetera non è un caso che soltanto adesso esce fuori Freedom of Information Act il foglia che viene fatto dal governo sia pure in una maniera ancora tutta da verificare insomma siamo indietro su questo e anche su questo terreno insomma i problemi che si vogliono sono tantissimi allora andiamo a vedere un po' meglio con dei fatti allora pubblicità e mafia Expo per Expo un anno prima una pubblicazione che si strumenta delle corriere ma anche da altri giornali ha pubblicato degli articoli straordinari sui temi dell'Expo erano bellissimi perché erano analisi dei contenuti reali che venivano proposti con questa cosa sul cibo la trasformazione in tutto il mondo il livello di vita la dignità delle persone per tutto attraverso il cibo alimentazione sanità eccetera avvicinandoci al Expo che cosa è successo? l'ho raccontato a due ragioni che mi faccio sul fatto e ci sono statici 50 milioni di euro che sono andati in India e quello che è venuto fuori è che il terreno su cui si è lavorato era proprio quello nuovo per l'upresa l'Expo se poi vedete ho fatto fare un paio di tesi una ancora deve essere discussa il 16 viene fuori che praticamente si è accentuato dalla natura di fiera ai tempi reali del giornalismo il giornalismo è first il giornalismo è first sono abbiamo diventato il vanishing il vanishing lo spettro no? questo è venuto basta una volta e viene era pronto eccetera guardate che nel frattempo se voi vedete la Repubblica la Stata che è il giornale eccetera vedete che la modificabilità si è allargata i termini di notizia prima non erano il venerdì e il sabato noi abbiamo serie di diciamo tematiche che diventano notizie bellissime che sono di un certo interesse però sono una cosa diversa abbiamo non so i viaggi la moda a 50 la moda non so le gonne le forze le scarpe i viaggi l'alimentazione in certo modo benissimo tutto benissimo questo però è la realtà due giorni fa il Corriere della Sera ha pubblicato un supplemento orologico e la Repubblica pure ma quello della Repubblica addirittura un passino in più era anche Olimpiadi se poi qualcuno ce l'ha avuto tra le mani non si capiva più che cosa fosse questa cosa qua benissimo questo è la realtà sul terreno di questo tipo dentro le sue realtà però e qui è l'asatto il giornalismo c'è non è che non c'è adesso per esempio vanno in televisione degli spot perché bisogna dare l'otto per i mille ma questi spot per esempio quello della Chiesa Cattolica se tu non lo passi un sito che loro richiamano sono delle storie di giornalissime è così anche i beni le storie dei beni le vite e la pelle come così via diciamo i media sono pieni di questa commissione ma guardate che bisogna avere coraggio e bisogna andare a vedere il giornalismo dove tutelarlo dove fare l'accesso dove se non vogliamo farlo sovrapprire perché altrimenti noi non riusciamo a a averlo nemmeno più perché una persona che fa per l'eni un lavoro o adegio una missa se non è riconosciuto come tale perché c'è l'accesso in quel modo c'è la tutela anche economica in quel modo è come se ci fosse un medico in una clinica privata che però è meno medico invece in realtà il medico nella clinica non è che fare per l'operazione come la Santa Rita quando non servono di ricordare il caso è un medico io sono un giornalista e siccome la realtà questo cambiamento c'è ma non è un cambiamento che avverrà guardate c'è ma c'è l'informazione locale l'informazione nazionale l'informazione alta l'informazione bassa dato che tutto c'è questo quindi è necessario fare questo lavoro che io vorrei fare con voi per andare a vedere dentro queste cose come è possibile intanto vedere il giornalismo che c'è e come l'uso di questi strumenti eccezionali possa vedere il giornalismo non subordinato perché qui poi i territori gli italiani in particolare non hanno la sfida né la capacità di muoversi col giornalismo nella testa ma anche nelle cose più banali quando c'è stata la rivoluzione degli ombrelli a Hong Kong Marshall che ha fatto ha fatto un basket di twittatori di tutte le fonti giornalistiche che erano presenti quindi Marshall che ha fatto si vede che un giornalista ha detto noi abbiamo la possibilità di mettere nel nostro sito 20 protagonisti dal russo del giornale russo in lingua inglese al New York Times al giornale australiano al giornale cinese mettiamoli insieme e il New York Times neanche un mese dopo l'ha fatto quando in Canada c'è stato l'assalto vi ricordate l'assalto al Parlamento l'Italia no perché noi facciamo una cosa per cui mandiamo i lettori dietro a qualcun altro cioè non viene proprio nella testa perché non c'è il giornalismo nella gestione delle innovazioni no non c'è proprio c'è una un rincorrere diciamo a codarsi salvo delle eccezioni che però vanno individuali trattate vanno anche considerate come i tagli perché altrimenti noi ce ne vediamo anche per strada perché cosa abbiamo vorrei dire che le vedo anche con voi un po' con ordine vi voglio fare qualche altro esempio anche problematico perché magari diciamo è esagerato la Coca Cola a Dubai ha fatto degli spot un anno fa un anno e mezzo fa forse che si chiamavano Happiness Coca Cola l'ha fatta anche in Oriente d'Oroca io l'ho visto sono andato a vederlo e quindi l'inchiesta giornalistica è come le migliori che viva la Rai perché? perché chi lavora a Dubai a parte che muoiono sul lavoro in una maniera piuttosto frequente trattato con un grandissimo uomo dalla speculazione altissima non hanno i soldi nemmeno per telefonare a casa la Coca l'ha raccontato le loro vite quando si svegliano la mattina come potrebbe fare di acqua nel cabineci e poi ha messo in piedi a Dubai delle cabine telefoniche distributrici di Coca Cola che funzionano in atti della Coca Cola questa cosa qua ha detto il giornalismo allora uno lì lo deve vedere e capire ha detto il giornalismo è una mancanza di dignità oppure è una nuova forma che ha assunto la definizione storica non era una definizione storica degli ingegnaudi che diceva che il giornalismo il giornale è l'insieme la vendita di notizie e raccoglie adesso questa cosa qua non ha più la forma separata non ce l'ha l'ha detto prima ma l'ha anche documentata a postanza piuttosto importante quindi questa commissione è una cosa non lo so questi insieme c'era anche prima in una certa forma eccezionale non era anche scandalo talvolta ma adesso è sistematica e la realtà allora noi dobbiamo andarla a vedere intanto capirla perché altrimenti la tutela perfino dei frivenze che ci lavorano questi che fanno le cose le vite dei cattolici per avere lotto per mille io ho chiamato per sapere quanti giornalisti c'erano non me l'hanno detto perché non c'era neanche uno però sono giornalisti quelli di allora noi dobbiamo entrare in un'ottica così se vogliamo difendere il giornalismo se no lo mettiamo anche qua in Italia sono queste cose 80 kg è abbastanza semplici va bene a un certo punto però su questi elementi qui non basta secondo me dire vabbè tutto questo è legittimato va mantenuto a tutti i livelli la capacità e va non so come dire va prima prima ci vuole la consapevolezza perché altrimenti io ho parlato con qualcuno di questi chi lavora anche i milioni che lavorano non so al digit c'è sempre lei di presente i persone loro avrebbero piacere a essere considerati giornalisti e sarebbe anche utile perché c'è un limite poi nell'appartenenza ma c'era anche prima quando Benetton faceva i grandi manifesti con le croci che in mezzo Italia intellettuale si scandalizzava perché se si viva la pente per mai niente però quella aveva una grande dignità io lo pensavo prima ero un po' isolato perché insieme con Cesare Sede e con Corrado Stagano fece un documento che si chiamava manifesto raccontro il bellosconismo nascente quando siamo arrivati a questo sono rimasti isolatissimi mezzo all'Università di Torino mi ha trattato come se fosse un belluto perché io dicevo beh la pubblicità di questa cosa qua va dentro un contenuto non so di massa però parla delle croci dei morti mi ricorda la spiaggia dove sono sbarcati in Normandia una cosa degna e dentro la pubblicità pazienza e dentro la pubblicità cioè noi abbiamo bisogno di essere liberi nella testa per salvare dentro questa situazione che non è che sta cambiando ma che è cambiata il giornalismo dov'è e com'è per poter diciamo avanzare e difendere quello in cui noi stiamo per tutta la vita perché io ciascuno di voi qua con questo del corso perché li conosco molto bene so con gli studenti Trump è già un miracolo che non si sia perduto mi sorprendo anche di trovare gli studenti sensibili a questo però ci sono sono così uno l'altro giorno mi ha venuto a dire sa persone che Trump parlano con parole due sillate io non posso parlare con parole due sillate si sono andato a dire così le frasi di Trump sono parole due sillate quindi il linguaggio poi un collega percorrere mi ha spiegato che cazza pure scrive tutti i sillate o direi questo non è una cosa da niente ma per dire il giornalismo deve entrare dentro le cose quando cambiano ancora di più però dobbiamo capirlo saperlo vederlo raccontarlo bene adesso abbiamo il quadro che tu hai fatto dentro questo quadro andiamo a cercare i singoli fatti qui ci vuole non lo so c'è difficoltà i miei amici che fanno tutto qui che a Milano è una cosa carina nuova sul teatro io gli ho detto ma fatevi fare un atto coinvolgere i lettori e gli scopatori vanno a vedere l'opera tre soldi che molto ha creato discussioni se streve o non streve beh fate partecipare tutti gli spettatori con i macchini sociali tutti i telefonini certo non è facile farlo però insomma portate il giornalismo dentro e dice se no che cosa succede che le potenzialità di questi movimenti venivano utilizzati in una maniera che ammazza il giornalismo a vedere la sera Fontana che dove entrare sotto quel cappello che ti ho detto che cosa ha fatto ha fatto una cosa ottima ha detto beh io porto la qualità del Corriere Sera in tutti i mezzi c'è sul telefonino sull'online sull'iPad per cui ha organizzato il lavoro e mi vorrei raccontarcelo anche ai miei studenti in una maniera sconvolgente per la verità ma sapete che non è aumentato il giornalista anzi diminuiscono al New York Times hanno fatto la stessa operazione che cosa ha reso da lì però dal 2008 non è calato un giornalista perché se no tu che fai pochi in polla che cosa fai poveracci cambiano gli orari di lavoro ma non riesci se non hai in testa il valore aggiunto e la capacità di interpretare di collocare di dare senso di contestualizzare che il giornalismo è qualcuno appunto ce l'ha la BBC l'Economist mica hanno perso poco l'Economist non ha perso poco non ha perso neanche la pubblicità perché? perché ogni cosa che parla di una cosa che succede in un paese lo contestualizza lo spiega dal senso questo non è una milione di fatti tutti si preoccupano della gratuità e la stanno fronteggiando però se tu la fronteggi con il giornalismo nella testa ragioni diversamente al mio senso l'hanno fatto il paywall è funzionato ma guardate ogni volta che c'è una break in uso importante santa non vale più il paywall ma è ovvio che sia ma perché a governare un giornalista noi tra l'altro c'è un paradossio perché quello che era positivo cioè il direttore come si è parato oggi nella crisi più totale con gli amministratori che arrivano con in testa i loro bonus che dovranno avere non fanno altro che agire sui costi non gli importa niente del giornalismo non gli viene in mente che loro possono usare i nuovi mezzi l'online il digitale ha una fondazione limitata quando tu hai sei amministrati o in una qualsiasi città e alla fine dell'anno scolastico hai dei saggi nelle scuole anche di qualità di teatro eccetera beh tu potresti andare in venire raccordarti con la comunità e andare a vedere dove ci sono delle persone che costruiscono teatro musica nelle scuole che è il collante di una società una comunità se non ha questo poi muore ma se il giornale non fa la ricognizione di questo e non usa i nuovi mezzi per poterla fare perché che problema c'è se ci sono a Milano otto cose teatrali di cui alcuna l'Accademia della Scala qualcun altro nelle istituzioni teatrali importanti fatti con i giorni ma se io vado lì e racconto e vedo quale è la qualità e quale non ho faccio il servizio ai lettori la fogliazione me la consente però bisogno di investire devo avere un editore e i giornalisti che sono dentro l'arco che non possono stare come in miniera a lavorare per la sopravvivenza perché voglio ma voi va bene andiamo avanti gli altri esempi di questo tipo guardate che c'è un'indagine fatta da un'iniziativa da comunicazione a Badova l'indagine è un'indagine fatta sui numeri qua per cui sto cercando per il decreto e chi esce da comunicazione trova un'indagine è abbastanza stabile ma con mia sorpresa anche quelli vogliono tutti i giornalisti ma qua non sono dei negri negri al quinto posto quinto posto sono nelle aziende normali ma non è che fanno gli uffici stampa fanno i contenuti quella è la realtà non è come la soffentare io una ricerca 150 persone esaminate con contratti peraltro neanche tanto precari in aziende non deve essere questa soffattivazione però c'era il tutto quindi questi non è come mi sto inventando io questa realtà è la realtà quindi noi abbiamo bisogno di identificare bene questo su un discorso che ci fa che non ci sentono in un momento che sono faticosi io mi posso permettere per questi 15 anni che faccio questo vado ricercando ogni volta che c'è una cosa io uso twitter in questo modo qua e rifiango 40 che faccio trovo una cosa curiosa allora non so la notizia rimascia con gli ombrelli la metto su twitter e la lancia dei studenti qualcun altro lo avete però non diventa senso comune questo qua c'è soltanto la preoccupazione giusta di difenderci dalle crisi di trovare le casse integrazioni eccetera ma il vero problema è quello di vedere come il giornalismo dentro questa nuova il nuovo assetto dell'impresa possa esistere in qualche modo se intanto i protagonisti per favore le cose di essere perlomeno lo dimentici la santa vita insomma cosa si chiama adesso senza pretendere che il copino diventi un errore guardate anche la cosa del foglia del freedom un'informiccinetta io sono 8 anni fa l'ho cominciato a fare la parola che ho andato studente degli Stati Uniti quello che abbiamo fatto con me ho parlato con la Bobrini ho spinto moltissimo perché i miei studenti tornavano degli Stati Uniti e dicevano professore ma se noi non facciamo tutto un'informiccinetta in Italia muore pure la democrazia di terzo noi siamo l'unico di 80 paesi dove un altro pubblico non era un altro pubblico ma vi rendete conto che nessun direttore del giornale l'ha mai chiesto questo unico c'è pure in India il freedom of information act e con tutto che si stava facendo il freedom of information act quando è arrivato Roani con le statue che hanno coperto le statue ricordate io ho fatto chiedere al foglia.it al presidente di fare la richiesta Palazzo Diggi per avere copia della relazione ma perché questo è importante il giornalismo non può prescindere per sapere qual è la realtà al di là della polemica politica Renzi o non Renzi si vuole colpire ma chi se ne importa non se ne lo so è mica quella e di sapere come sono le cose beh hanno risposto da Palazzo Diggi con una lettera che c'è qua dove c'è scritto che non davano il documento perché perché si prestava al controllo sulla pubblicizzazione che è una delle radici del Freedom Information Act mentre facevano il Freedom Information Act pensate che negli Stati Uniti Obama è stato costretto anche a dare la ricetta della birra della Casa Bianca mi erano chiesto con foglia e un birraglio giovane di Pato lo sta facendo perché ha sentito che gliel'hanno detto che l'ho detta lezione uno che fa la birra se state fare la birra è normale ma che problema c'è sull'alto e sul basso guardate che quando sono morti 300 immigrati di fronte alla penusa c'è stata una grande polemica sulla legge possibili quella notte lì io mi sono perché sono appassionato su di una sono appassionato ho chiamato Berisario che è il massimo esperto italiano di open government e gli ho detto senti Berisario ma mi prepari una lettera perché io conosco i due giornalisti che sono là una lettera con la quale chiedere l'email che la Capitonica ti porta mandata al centro per sapere se dovevano salvare le persone a cento metri dalla riva perché se noi riusciamo a vedere le segni capiamo se la gente è morta perché c'è una legge da correggere e non capiamo nella controversia politica solita tra la destra e la sinistra la legge positiva i due che erano là uno di Repubblica uno del Corriere in contatto con me perché li conoscevo tutte e due a un certo punto mi hanno detto senti Raffaele grazie ma non lo possiamo fare perché se no pure le notizie che ci vanno non ce le danno più per cui noi abbiamo problemi molteplici di questo tipo noi dobbiamo identificare quello che ci serve perché dentro il contesto nuovo ripeto noi dobbiamo fare i giornalisti soltanto così poi otteniamo anche il cambiamento di strutture che non ci pensano nemmeno i prodotti li fanno ugualmente le imprese non muoiono mica non importa siamo noi quelli che dobbiamo alzare questa bandiera come gli stiace insomma o gli altri elementi quindi anche il discorso ecco trovando per esempio i temi viaggi benessere food moda design tecnologia famiglia sono tutti notiziabili in senso nuovo allora quando ho fatto pari lavori su questi giornalisti interessati Corriere Repubblica Santa eccetera non è che hanno anche il loro spazio hanno consapevoli di farlo con una certa libertà lo fanno effettivamente con una certa libertà però c'è un toglie che noi dobbiamo intervenire su questo perché altrimenti loro pensano di farlo con una certa libertà non è più italiana non è più vero così se noi su questo non interveniamo davvero tutelando anche dice ma questo diventa allora un discorso di tutela del precario a me non è che mi interessa in sé la tutela del precario ma il giornalismo dove c'è sì perché altrimenti si affevolisce da uno dice ma come male in Italia c'è il declinio perché il declinio in Italia c'è neanche non c'è gli articoli del New York Times quando hanno anni fa no 4-5 anni fa hanno descritto il declinio italiano ecco se lo sono inventati e che noi abbiamo una situazione nella quale facciamo la nostra pratica schnoten pochi giorni fa ha fatto un'intervista bella e ha detto il giornalismo fa la sua job no e c'è una frase che io proprio mi sono riportata la sono sentata in cui dice attenzione e l'indipendenza è l'elemento primario del giornalismo primario primo di tutti l'ha detto snove adesso non è che voglio fare la bandiera di snove perché se ne sta a mosca lo gozza ha fatto però una cosa è quello che insieme con il Guardian ha diciamo ha tirato fuori le intercettazioni del National Security Agency americano una cosa che sul piano della conoscenza è chiaro che gli elementi che vengono fuori dal giornalismo non è che sono di per sé perché altrimenti non è che sia un corpo separato arriviamo nei grandi evoluzioni del mondo no allora Obama appena capitato Presidente ha allargato il freedom primo attore allargò il freedom informe poi c'è una seconda cosa tutti i documenti di Abu Ghraib quelli della tortura in Iraq li ha resi pubblici tutti centinaia centinaia di documenti io e Roibi che è ex Presidente abbiamo anche fatto un piccolo finanziamento personale per farli tradurre abbiamo messo sui siti LSD e il sito giornalismo e democrazia di Roibi con gli stessi cittacenta erogalismo con gli nomi che si sono guardiati però perché qual è il valore giornalistico come funziona scusate se sono un po' didattico risento un po' forse allora un paese dopo le torri insomma preferisce la sicurezza al giornalismo e quindi il fatto che ci siano state le torture ovviamente da recitare e da correggere insomma nell'opinione pubblica ha qualche giustificazione allora un paese serio c'è il giornalismo che fa perché tira fuori le email con le quali i comandi militari decidono se il waterboarding si può fare o no e in che limiti si può fare perché un paese democratico con la funzione giornalistica che è essenziale di fronte a questo mette davanti il senso dell'opinione pubblica dopo che gli hanno ammazzato duemila passapersone sulle torri la sicurezza necessaria dopo che gli hanno bombardato la maratona di Boston e dice beh io però sono un paese civile la fortuna no correggo faccio in modo e avviene qualcosa avviene qualcosa guardate che il giornalismo è fondamentale ogni tanto noi diamo prova caso Aiani il piccolo sulla spiaggia il giornalismo ha vinto io ho partecipato anche a quello con molta passione appena arrivata la notizia ho visto la foto con il primo piano le scarpe del bambino dei calzoncini che potrebbe essere mio nipote o tuo figlio o chi altro io ho visto questo è una cosa diversa la foto non era un caso perché i giornalisti che l'hanno fotografata e rilanciata una era del New York Times che si chiama l'insignor l'hanno fatta come l'ha fatto nei giornali è nata la discussione se era una foto cinica e non si doveva pubblicare non so se vi ricordate la foto degli anni sulla spiaggia del bambino con i calzoncini addirittura poi su LSD abbiamo fatto una story fine con tutto quanto compreso il filmato che c'era a E.Mundo dove i giornalisti discutevano con il pubblico se pubblicato o no però vedete che l'innovazione portata dentro il giornalismo è stupenda è uno strumento eccezionale però bisogna vederlo cavolo quella cosa a me è stata una cosa straordinaria nella story file questa ragazza che si chiama Letta Zoya Ressina ha messo anche un pezzo di social network dove una mamma ricordava la mamma di Cecilia di Manzoni con il bambino portato sui donatti a me mi era bello era meraviglioso era un modo di mettere insieme il giornalismo ha vinto contro tutti i governi perché i governi prima di prendere un atteggiamento hanno mille ragioni demagogiche i voti e le cose lo vediamo alle elezioni quello che succede in mezzo a Europa adesso la Merkel ha fatto riuscita lì tutto merito del giornalismo che in quell'occasione per un momento messi insieme le potenzialità nuove la sensibilità storica tutto quello che volete è venuto fuori ma questo si può fare tutti i giorni in tutte le città nel paese in Europa andando a vedere le cose che serve lo possiamo fare noi lo potete fare voi scusate questo andiamo avanti poi parlo sei ore guardate che per esempio l'introduzione il libro non mi so me ci mette però non è che da solo risolve perché io ho parlato con Renzi che è qui presente dell'RSD il quale si è mosso con l'ordine della Toscana e gli altri ordini nazionali per dirgli guardate che noi dobbiamo spiegare ai giornalisti che sono questi strumenti insegnargli dati l'abitudine a usarli perché noi in Italia non ce l'abbiamo dice ma che serve e lo dico io a che serve quando abbiamo fatto il convegno a Roma per promuovere in Italia questo freedom è venuto un certo Frankl di Londra il quale raccontava che si è servito lì il foglia pensate a Londra come in tutta Italia quasi c'è ritardo nel fare le TAC o per avere non so una risonanza magnetica che col foglia quello a Londra Frankl ha ottenuto nel giro di due settimane tutti i dati sull'uso delle macchine negli ospedali a Londra i turni di lavoro se lavoravano fino a che ora se lavoravano il sabato la domenica nel giro di due mesi hanno ottenuto che l'abbattimento delle attese per fare le TAC le hanno salvato pure le vite con semplice applicazione e con giornalismo che parla sua parte noi purtroppo non è difficile perché abbiamo una cappa di ordinario che va in direzione contraria se non siamo noi ma chi è? noi avevamo già neanche io lo sapevo una cosa si chiama A.A.H.L.U.S. questo metto non lo sa nessuno A.A.H.L.U.S. è una città colandese dove è stata firmata una convenzione che rende che l'Italia ha firmato convenzione internazionale in base alla quale in materia di ambiente si possano avere tutti i documenti con il migliore regime del primo malcomicile già questo è nel 98 pensate nel 98 io non lo sapevo una mia studentessa è andata in Calabria dietro a una discarica che è stata qua tre mesi per fare la tesi non riuscivo a partire alla fine gli hanno dato perché perché io gli ho fatto preparare la richiesta quando gli hanno dati gli hanno detto però lei non li deve far vedere a nessuno ma per dire che noi abbiamo anche da rimuovere degli ostacoli molto molto diffusi perché capitudine il giornalismo italiano sia adeguato a lavorare su quello che alla fine conta meno fa soltanto voglio noi non so se le persone abusano del passaggio sulla prevenziale noi facciamo dei prezzi con i nomi delle persone che abusano però non avevamo né gli strumenti per andare a vedere come era nato questo provvedimento chi è che aveva fatto il provvedimento che ha dato a pochi notabili il permesso di andare sulle prevenzioni non lo facciamo non c'era neanche la legge per cui adesso anche se c'è la legge non è detto che riusciamo però se noi non siamo consapevoli di questo e non sappiamo non lo possiamo nemmeno chiedere il primo passo è quello di sapere io per quello titolo del mio intervento oggi beh ma questo cambiamento che c'è come coinvolge il giornalismo che fine fa il giornalismo perché insomma è sottoposto un po' di pressione non tanto piccola allora certo nel frattempo però le cose non è che non si muovono perché gli esempi che ci sono in tutto il mondo che nonostante la trasformazione e tutto quello che stiamo dicendo va ci sono media part allora plein air è uscito dalle monte va a fare media part da tramitare media part che cos'è è un sito che non ha pubblicità ha 9 euro al mese del bonamento ha 100.000 abbonati ed è però il sito che ha raccontato dimostrato non come bufala che Sarcosì prendeva i soldi da ambienti della vita di dati che Marilla Epen prendeva i soldi dalla Russia tramite una banca non so di dove fosse e comunque parte il giornalismo e non ha neanche la pubblicità le canale le canale a scenaire è un giornale che fa 400.000 accopi sui settimanali guardate 400.000 non è mica su internet quindi non è un evo col discorso anche lì giornalismo first tutti fanno il giornalismo non è che fanno solo le vignette le canale fa fa quello che ogni tanto qualcuno fa in Italia con qualche inchiesta giornalistica fa un corriere che non so Stelio e Pizzo o un'altra parte però l'insieme del sistema non è orientato così non è legato agli interessi fondamentali della comunità guardate che questo è il punto chiave è il punto chiave a te piace il radio popolare il radio popolare fa questo lasciamo stare e il radio popolare poi come vive vive con gli abbonamenti ma guardate gli abbonamenti la membership la come si chiama abbonamento non so come la chiamano allora non è abbonaggio abbonaggio all'abbonaggio scusa mi schiavo ma la nuova direttrice del Guardian siccome non le piace il paywall sta muovendo verso la membership perché insomma però sempre con la stessa bandiera quello giornale che ha pubblicato le cose di Snowden poi che cosa è chiaro Gringley più o altro come si chiama Glenn Gringold e se ne è andato a Intercept dove ha trovato il padrone di ebay che gli fa fare un giornale peccato è è difficile perché le cose che hanno fatto l'anno scorso sono eccezionali perché i droni papers sono stati pochissimo divulgati con tutto il mondo però sono richieste giornalistiche eccezionali perché lì alla chiedicchiera Obama o non Obama io lo devo c'è perfino il vestito di quando è stato nominato uguale sì è vero però loro ammazzano la gente senza processo con i droni allora un paese lo deve sapere poi magari li ammazza ovviamente non lo so se stabilisce che davvero sono gli assassini dell'Isis non ti so dire però noi non possiamo non lavorare nella direzione del giornalismo soprattutto con questa trasformazione che ripeto non è da fare ma c'è già se noi non siamo consapevoli di questo non interveniamo anche quelli che devono fare la legge dell'ordine devono cambiare l'accesso deve essere rapportato con questo cambiamento perché tu sennò perdi per strada migliaia non solo quelli che guadagnano pochissimo oggi e quando hanno intenzione ma muore il giornalismo pure tu te lo devi porre è questo e purtroppo gli unici che lo possono porre in prima persona siamo noi siete voi qua perché noi ce l'abbiamo più il gusto del giornalismo dentro e questo ci aiuta perché le istituzioni non insomma ostentano non dico i partiti pure ovviamente ma anche le istituzioni della professione sono un po' lontane ma non per cattivere non è che sono cattivi io che conozco non hanno io faccio questo la mattina alla sera alle 15 no ho anche gli strumenti la voglia certo quello che avviene nel mondo di nuovo è tantissimo la vicenda di Bax non è male perché Bax è nato un po' come Baxfield all'inizio poi adesso c'è 34 uffici in tutto il mondo ogni volta che c'è un appenimento la cosa che serve quando c'è stato cerchio e il dono sono andati a casa del direttore recente hanno fatto un servizio meraviglioso ma i giornali non i giornali no cioè non lo so c'è una necessità di certificazione e di consapevolezza di quello che siamo in questo cambiamento anche quando c'è stato Paraclano io l'ho fatto facevo anche un po' perché l'ho fatto con i miei studenti ho fatto fare 93 biografie degli ultimi morti in Paraclano e non ha fatto nessuno perché ora vai all'università cioè no c'è una sorta di difficoltà per fortuna voi nei fatti motivi scatta qualcosa è scattato in un paio anno e si è dedicato questo certo delle cose ci sono Varese Muz per esempio è una cosa che segna no non c'è nessuno qua di questo realtà beh insomma è una cosa che vive e ce n'è altra io seguo anche qualcun altro vedo purtroppo però sono come ignorati come si chiama chi called Mac è un'altra realtà diciamo di significato pieno di senso l'esperienza di 99 pagine come si chiama pagina 99 era tale tale perché insomma lì facevano bastava spogliarlo per vedere che è giornalismo diverso più più mi ricordo quando c'è stato il treno in biblico sulla salona loro sono andati là e hanno raccontato bene le difficoltà di tirare fuori dal finale il treno con una gru che stava in mare ed è difficile però era una cosa vera che serviva cioè noi quindi le cose non è che non ci sono e non sono possibili però dobbiamo poter io aiuto con questa cosa sono stato contento guarda metti insieme le cose che sto facendo in questi anni sono punti secondo me di me il tempo di essere come dire magari sono problemati magari di qualche qualche sceltezza magari no non è detto che un giornale c'è un grande apprendimento necessariamente devo andare a fare lo sforzo per vedere chi sono i giornalisti là per mettere il basket dei trittatori insomma vuoi dire non ti sei matto vuoi portare il mio traffico che ne so però questa ottica qua ci vuole e questa conoscenza qua ci vuole guardate che le cose che abbiamo visto poi via via io appunto ripeto le quinto appena vedendo quando è uscito il snowfall oh il snowfall era una cosa straordinaria era una amica che vive era una amica alla fine del mondo però quello hanno investito moltissimo però il prodotto giornalistico che è uscito mi ha su piedi tanto di cartello con le visioni fatte con i droni dall'alto di quella zona di unità era il giornalismo con i nuovi mezzi ma il giornalismo con i nuovi mezzi non soltanto la possibilità perché in Italia le inventazioni di usare il uomo soltanto per tagliare le cose io le ho stradiste mi ricordo che qualche anno fa il rappresentante degli editori a un certo punto ha detto abbiamo noi facciamo giornale senza giornalisti ma noi non ho fatto perché a un certo punto tu quando scopri che la gente 15 anni fa prima di andare via dall'ufficio si collegava perché così non doveva spendere a casa vedere le notizie il Paese Repubblica altri giornali che hanno fatto un software in cui tiravano dentro le notizie si potevano stampare 12 pagine di giornali senza mano di giornalista mi ricordano l'ha fatto pure le notizie però capito insomma le cose saperle e però integrarle con un altro punto di vista come vedete è sempre lo stesso discorso certo c'è un altro discorso a fare il giornale non deve mai dimenticare la propria missione di collegamento con la comunità io sono rimasto moltissimo male il giorno della morte e funerale di Aparo perché perché in piazza della Scana c'era una cosa che doveva essere vista tutto il Paese al suo massimo un grande giornale avrebbe dovuto mettere la foto grande perché lì c'era il riconoscimento di che cosa era la musica in una comunità che cosa era del personaggio il fatto che tutta la città convergeva devono darlo il Corriere della Sera ha pubblicato una fotografica da una finestrella il giorno dopo però in interesse noi in realtà ne c'era la foto tutta la pagina ma perché ma quello non lo vediamo noi io mi sono molto arrabbiato con me stesso chi non ha perché il colpo a Pellia tanto potevo non ho realizzato quello vabbè lasciamo che questa è la verità troppo moderata vabbè andiamo avanti un po' di no su questo discorso perché vi ho vistiati un po' tutti dire che mi va bene così e quindi eh qualcuno sulle cose che ho detto fino a ora vuole interrompermi con una domanda accetto ovviamente no no volevo invece dire un pochino che c'è qualche luogo comune da rimuovere qualcuno c'è una twitter c'è 120 caratteri 140 caratteri non serve niente o un altro che dice però sul digitale non puoi fare le cose lunghe serie non è per niente vero questo non è per niente vero un mio studente mi ha veramente un po' scioccato perché in un discorso su sulle cose corte twitter ha detto ha scritto che twitter è come fare una biblioteca dove tu vedi titoli poi ti ripori il volume c'hai il link che leggi cioè tu è diventato l'essenziale la cosa di twitter per i giornalisti secondo me è molto più importante che valutare autosocial perché che ne so finisciare come si chiama carica in quello del medio oriente lui c'ha 50 punti se tu segui lui e c'è la crisi in medio oriente tu sai le cose tre ore prima le facci sì cioè i giornalisti eccetera però anche il long form guardate che non è non è morto il giornalismo quello come dire ieri o stamattina no ieri il new yorker ha rifiutato la corrispondenza del proprio reporter alla vigilia dello sbatto in normandia dove si stavano i mercanti soldati e ha fatto il primo pezzo come ha dato per l'Iroshima il pezzo sui sei sopravvissuti sono riusciti un anno dopo Hiroshima che un cavolo amore di un maestro guardando queste 60 pagine 60 pagine e quando c'è stata la piaglia io mi sono letto tutto di un piatto un pezzo sempre su new yorker che raccontava come a polonord una scoperta insommergibile che era nei ghiacci lo sciolto i ghiacci del polonord un sommergibile venuto fuori e i morti del sommergibile avevano dentro il batterio della spagnola per cui si è capito che la spagnola era la piaglia beh a conto di questo uno se lo legge tutto tutto 40 pagine quanto sono quindi dipende da che cosa scrivi sempre quindi certo il stile che occorre nelle breaking news è una cosa un servizio così in un altro però nulla è da escludere così come ho cercato di dire io però farei un come dire mi fermerei quasi qua chiedendo poi perché ho tempi devo stare scusate 49 perché devo dire no io volevo concludere il discorso dicendo che secondo le analisi che penso di fare con un certo ricordo questi fatti materiali messi insieme esigono come la creazione di un hashtag che io cercherei proprio di proporre che è journalism first cioè digitale importante fondamentale sbaglia uno che beh io mi ricordo che miei quando veniva fuori internet diceva è come il borsello in una volta che passerà se sbagliate guardate guardate questi personaggi adesso non ho niente controviene perché un signor giornalista però insomma era abbastanza diffusa un'opinione di questo tipo nel giornalismo quello soprattutto tutelare dei giornali no di non vedere quello che avveniva io ricordo addirittura che un giorno alla riunione del Corriere noi avevamo la mattina avevamo un'intervista con Mojila e però il pomeriggio lui aveva anche nel 60 beh non l'abbiamo mica messo in un signor giuro perché un personaggio ha detto ma non è che ci interessa insomma quindi il ritardo c'è ma il ritardo è anche legato con una sorta di pensiero non espresso di trutturare così magari qualcosa no un privilegio non lo so e poi permettetemi di concludere anche con una cosa un po' demagogica perché è avvenuta per i test a un congresso dei giornalisti io sono stato apprenditissimo per una frase che pensavo di chiassero io ho detto attenzione che i giornalisti italiani rischiano essi di toffi nel formaggio insomma noi i toffi nel formaggio mi hanno fino a lo dire però guardate che questo noi non siamo il giornalismo deve essere la comunità oggi questa cosa qua è contabilitare perché basta essere un analista di quello che succede nel mondo e lo capisci anche quello che sta succedendo in Europa non ce la fanno i governi a fronteggiare l'ondata populista ci vuole la crescita della conoscenza degli individui che cazano sono i giornali grazie 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 a tutti